Vi siete divertiti, vero? Chiede Pioli ai giornalisti tra il serio e il faceto subito dopo Fiorentina-Atalanta. In effetti non capita tanto spesso di vedere 12 gol in due partite nell'arco di tre giorni. Certo però che il 3-3 di Coppa Italia è molto diverso da quello ottenuto in campionato, al di là del fatto che per la Fiorentina sia trattato di due rimonte. Implica infatti andare a vincere a Bergamo al ritorno tra due mesi, ma l'allenatore Viola ha già buone sensazioni. È un risultato importante, è chiaro che non è quello che mi auguravo, non è quello che speravamo, speravamo di vincere la partita, però qualche vantaggio in più se lo porta a casa l'Atalanta, ma la sfida non è chiusa. Tra l'altro c'è un buon precedente, quando sono andato in finale con la Lazio abbiamo pareggiato in casa, 1-1 con il Napoli, poi mi ha vinto. Con la testa ancora alle sgruppate di Chiesa, la girata vincente di Benassia, la rapidità di Muriel nel trovare il definitivo 3-3 quando tutto sembrava davvero finito, perché la sconfitta in casa sarebbe stata davvero penalizzante in vista del ritorno, il difficile ora sarà riconcentrarsi sul campionato dove tra l'altro la Fiorentina incrocerà subito di nuovo proprio la squadra di Gasperini che in sala stampa riaccende per l'ennesima volta la polemica sul rigore dato a Chiesa all'andata, ridefinendolo farzesco e penalizzante per la credibilità dello stesso giocatore. Gelida la risposta del tecnico della Fiorentina. Ora invito Gasperini a guardare oltre e soprattutto se vuole tornare indietro guardarsi l'immagine, se si guarda bene l'immagine vedrà che Federico è inciampato e non ha simulato, poi se vuole continuare su questa strada faccia pure, Federico non viene fischiato in tutti gli stadi, Federico viene ammirato in tutti gli stadi e soprattutto qua a Firenze per le qualità che ha e per quello che sta facendo. La sua risposta non mi è piaciuta e secondo me non corrisponde alla verità. Si possono vedere le cose diversamente. Io ho rivisto le immagini e ho detto anche che ho sbagliato perché Federico andava difeso immediatamente perché Federico inciampò, se però lui la pensa così, lui rimane dalla sua, io rimango dalla mia e basta.